Siamo con il dottor Stefano Liuzzi, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega, a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Parliamo di giovani, come frenare il triste fenomeno della fuga dei cervelli. Tanti ragazzi studiano, completano il proprio percorso e poi non ritornano più a Taranto. Parimenti, altri giovani o anche meno giovani che svolgono una professione, una attività diciamo più manuale, non trovano lavoro qui in Puglia e a Taranto e anche loro svolgono questa attività professionale manuale altrove. Come arginare questo fenomeno? È complessissima la cosa, quindi è evidente che... Quali presupposti creare? Sì, è evidente che è un problema che non è soltanto regionale ma anche nazionale perché se il costo del lavoro è eccessivo, se o per quanto riguarda le partite IVA si è costretti a un'eccessiva burocratizzazione e a una tassazione elevatissima, è evidente che quelle categorie scappano o chiudono o vanno via. Quindi deve essere un discorso sinergico evidentemente, governo centrale ma anche regioni, Puglia, Taranto in particolare. Beh, i giovani innanzitutto dare un sostegno alle scuole, le scuole sono le scuole professionali. Qui a Crispiano abbiamo un ottimo istituto alberghiero, poter dare un sostegno all'alberghiero ma a tutti gli istituti significa dare una professione che ha un sicuro futuro. Io parlavo, ricordo un anno, con un direttore di sala del ristorante di una nota compagnia di navigazione e mi diceva che gente che esce dall'alberghiero ed esce formata trova lavoro un minuto dopo. Bisogna capire che quelle scuole professionali non sono le scuole di chi non vuole studiare ma sono le scuole di chi vuole fare un altro tipo di lavoro di professione. Quindi un sostegno alla scuola, alle scuole professionali e un discorso particolare riguarda anche l'università. L'università Taranto ha avuto un particolare rilancio una ventina di anni fa, ricordo in provincia, con la presidenza del professor Rana. Se ne è un po' parlato di meno. L'anno scorso abbiamo assistito a un fenomeno che a me non è piaciuto per niente. La partenza a Taranto, finalmente, della facoltà di medicina, che è un fatto importantissimo, però abbiamo assistito alla fuga da Taranto degli studenti di medicina. Questo è un grave vulnus che io imputo a chi non ha saputo applicare quelle che sono le leggi. Perché diceva il bando di concorso, perché c'è il numero chiuso, che a Taranto sarebbero venuti gli ultimi 60 posti nella graduatoria dell'università di Bari. Ebbene, a questo punto, gli ultimi 60 sapevano che avevano concorso con la possibilità o col rischio, secondo alcuni, di venire a Taranto. Era giusto che venissero a Taranto e non che poi si permettesse di ritornare a Bari. Se non si voleva accettare Taranto, si poteva tranquillamente rinunciare e far entrare altra gente che era disponibile a venire a Taranto. Io ho studiato a Bari, altra gente che io conosco ha studiato a Milano, a Roma, a Bologna, a Torino. Ecco che, certo, naturalmente, chi poi comincia a fare un cursus di studi, anche importante, in una regione del nord, in una città grossa, tendi a restare là. Sarebbe stato un segnale importante per cercare di tenere anche a Taranto futuri medici di cui abbiamo bisogno. Speriamo che nel nuovo anno accademico non si assista a questo che io ritengo un obbrobrio.